Madonna santa Cioè, guardate qua I bombardamenti su Tresla Mai visti, però, si racconta, furono particolarmente violenti Sì, comunque è un po' imbarazzante Andiamo su verso la cima Non ci fermiamo, probabilmente, perché Ma che? Se no, viene tardi Grazie E di parlare tedesco Sì Galleria non illuminata Sì, ma è priva di fascino questa Sì, no, perché è un... Però, lì c'è la strada vecchia Ah, sì Bella? No, bella E io devo tirare sulla visiera che non vedo niente Sì, appunto, anche che ci sono i ciclisti Hola Ti sei congelato la faccia? No, dai, 25 gradi Si sta appannando la visiera Quello sì Mamma mia Comunque almeno le voragini potrebbero rattopparle C'è ancora un filino di neve Giusto un filino Giusto un filino Tipo qua L'hai presa in pieno? No No No? Sembra di sì No 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 La cosa più divertente è guardare come ti guardano gli altri quando ti incrociano Devi fare la foto? Sì, dai Facciamo una foto al volo col mio nuovo iPhone da poche migliaia di euro Quello vecchio è morto Cioè l'ho ucciso definitivamente, sostanzialmente Comunque il Face ID non ti riconosce col casco E vabbè, lo proteggono un po' troppo Eh, invece il touch funzionava Eh sì Chissà quanto è profondo? Eh, bella domanda Bisognerebbe andare a farci il bagno per capirlo Guarda che c'è uno giù là Sì Bene, le foto qua le avevamo fatte l'altra volta Speriamo non siano perse per sempre Vado? Eh, sto mettendo via l'iPhone Ok, vai Luna rallenta che ti passo qua Che si vede giù tutta la valle Vieni affiancata a me per un pezzettino E qua inizia l'enduro praticamente Madonna santa Cioè, guardate qua I bombardamenti su Tresla Mai visti, eh Però si racconta Furono particolarmente violenti Sì, comunque è un po' imbarazzante Eh, ma due anni L'anno scorso Speravamo tutti Che siccome in teoria Doveva passare il Giro d'Italia Avrebbero quantomeno dato Una sistemata, ecco Poi in realtà Il Giro d'Italia non è passato di qui Perché c'era troppa neve E non erano ancora riusciti a pulirlo E quindi avevano cambiato la tappa E alla fine Non essendo passati Non l'hanno sistemato Neanche a grandi linee E cosa hanno fatto alla fine? Dove sono passati? Eh E giù a Ponte di Legno Hanno fatto il tonale Mi sembra Che era aperto Ah beh Eh lo so Un'altra cosa Un altro paesaggio Un altro tutto Ma qua c'erano giù 12 metri di neve E con la bici da corsa 12 metri di neve Erano un po' Macchina bianca con le strisce verdi Sei un po' infame Perché? Eh perché sembra una municipale Cioè tu li vedi Dici ma cos'è la municipale Invece Invece no Cos'era? Innovare Crescere E non so cosa Un po' come quando a Natale La gente mette le luci dell'albero blu Che tu da lontano Dici c***o Il posto di blocco Poi arrivi lì a un albero di Natale E dici ma fa c***o Te le luci blu Sono sicuro che sono scene Che tutti abbiamo vissuto Bello Beh comunque ridendo E schivando le buche Siamo arrivati In cima Al passo Gavia Che divide la Valca Monica Dalla Val Furva Eh Quante Unational Geographic C'è in questi video Wow Due settimane fa Il lago Comunque mi guardano tutti E questa cosa Mi mette un po' in soggezione E vabbè C'è un unicorno in testa Comunque due settimane fa Questi parcheggi Non erano stati puliti E il lago Può essere Può essere Può essere perché siamo troppo Istruttivi Le persone preferiscono i video Stupidi e non istruttivi Comunque questa funzione grandangolare È pazzesca Cioè riesce a fare delle foto Incredibili E vabbè mica Con qualche costa Bene Riprendiamo Che sono le 2.20 E abbiamo relativamente poco tempo Perché poi Dai laghi di Cancano A Bema Sono circa due ore E quindi Dobbiamo ripartire Da là Per le 5 Il lago comunque È ancora bello ghiacciato Ma che ficata Sì A me questi paesaggi qua Mi piacciono un casino Ma che roba Sì infatti Anche questo pezzo qua È pazzesco Comunque È la freccia accesa Dai Luna Commenta qualcosa Di qualcosa Sei troppo in silenzio Ma Non mi stai dando emozioni oggi Sei un po' piatta Sono un po' piatta Sì Sì Sarà perché non ho bevuto caffeina Avrei detto sì e no 15 parole In 3 ore che siamo in moto Ma non è vero 16 Di qualche bella stronzata Delle tue Ma Fa frecci Cazzo fanno Sono andate a sciare Ma vanno tutti a sciare qua Solo che mi piacerebbe capire dove Visto che c'è erba Ovunque Sì infatti Ma dov'è che vanno Probabilmente fanno sci nautico Dentro al fiume Eh ma no Guarda vedi Sono sci strani Ma dov'è che vanno Eh o sono quelli da mettere con le pelli Ah Eh fanno alpinismo Vero Minchia io l'ho fatto una volta alpinismo Porca miseria che fatica Porca miseria Comunque sì Mi sento gli occhi di chiunque puntati addosso Diranno va che lì Ma cos'è che fa con quella roba lì in testa E faccio dei gran video in realtà Dei gran bei video Guarda quanta c***a di neve c'è su là Eh mi sa che è una specie di ghiacciaio permanente Ci sarà su Capitano America congelato Eh è un peccato comunque che probabilmente Magari i nostri figli riusciranno ancora a vedere queste cose Già i figli dei nostri figli se andiamo avanti di questo passo Dubito che vedranno mai un ghiacciaio Se non sopra i 4000 metri Forse I nostri figli? I figli dei nostri figli quando saremo nonni tra 50 anni Ah ma i nostri è detto plurale Sì ma in generale nel senso Ah Mi paragono Cioè mi metto sullo stesso piano di tutti quelli che hanno la nostra età Tra i 20 e 30 anni Ah ok Che quando avremo un figlio Magari tra 5-10 anni Può essere che Cioè quando sarà grande che avrà 20 anni Quindi tra 30 anni Qualcosa probabilmente sarà rimasto Quando faranno i figli loro Quindi tra 50-60 anni A parte che tra 60 anni no 90 Sinceramente dubito di essere qua ancora Dai Ai... Ai 90 anni Eh Beh va bene l'ottimismo Però 90 è già un bel traguardo eh Siamo arrivati allo Stelvio Surreale perché praticamente non c'è nessuno E anche giù dal lato del Trentino che è aperto Silenzio Sì è un bel traguardo che è stato successo Sì è un bel traguardo che è stato successo